Il 13 maggio, ave Maria, ave pastorelli, in comandi via. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vendente di luce, veniva Maria. Vendente di luce, veniva Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vendente di luce, veniva Maria. Vendente di luce, veniva Maria. Vendente di luce, veniva Maria.